Musica Sto parlando anche col maestro Jonathan Francesconi che era un costruttore del Carnevale abbiamo pensato di fare un omaggio ad Emanuele Luzzati a cent'anni dalla nascita e queste sono le sue carte da gioco, infatti il titolo si intitola gioco di carta a corte e 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 che ho usato anche per le mie sculture è un legame Carnevale arte che si combaciano e vanno d'accordo insieme penso e 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